La paura inibisce, la paura paralizza, la paura blocca. E che cosa si produce quando una persona è bloccata dalla paura? Si arrabbia con se stessa. E che cosa genera? Genera sofferenza. Come si può sentire una persona quando si arrabbia con se stessa? Male. Non può altro che sentirsi male. Allora che fa? Una persona se fosse in buone condizioni direbbe mi sono arrabbiata con me stessa. Ma ho sbagliato, non lo faccio più. E che faccio? Mi arrabbio con gli altri. Ecco, altra scelta errata. Proprio un sbaglio, un errore. Un errore macroscopico. Come si potrà sentire una persona che si è arrabbiata con altri quando poi gli prende perfino il dubbio che gli altri non c'entriamo nulla. E quindi è uno sfogo, uno sfogo anche che è disonesto, immorale. Arrabbiarci con altri di qualcosa che abbiamo generato noi. Prima di tutto sdrammatizzare, perché quella paura l'abbiamo costruita noi. Sdrammatizziamo. Sdrammatizziamo. Se sdrammatizziamo com'è? Te lo dico. Vi dico adesso. Riconoscendo che abbiamo sbagliato a prendercela con noi. Abbiamo sviluppato rabbia perché non siamo in grado, non abbiamo il coraggio di affrontare qualcosa di cui abbiamo paura. E quindi è abbastanza automatico prendersela con se stessi. Vigliacco, pusillanime, non ti vergogni, ma perché vali così poco, perché non ti fai sentire. Ecco, la persona si svilisce. E che cosa gli accade a una persona che si svilisce? Diventa triste. Ecco che è arrivato il terzo componente. paura, collera, tristezza. In quella tristezza il problema è che la persona è portata a compiere altri errori. A fare una compensazione, quindi io sono triste per questa cosa, mi do una sballata con un'altra. Gioco d'azzardo, sesso, lusso, acquisti fobici, acquisti coatti. O si mette a smontare tutte a rimontare in un modo diverso o a spostare gli oggetti da qua a là e anche con un po' di collera per cercare di avere un panorama diverso del proprio ambiente. Magari tradisce il partner oppure non dice nulla a nessuno e se ne va da qualche parte sapendo che molte produzioni saranno in ansia, che questo non aiuta, ma vuole una rivincita e questa rivincita è uno sfogo e questo sfogo produce un autodanneggiamento. Ora che abbiamo chiarito che queste tre componenti sono parte dello stesso problema, generate inizialmente dalla paura, producono collera dopo il primo sbotto, dopo la prima esplosione della collera che sembra di anche qualche soddisfazione, ma insomma è la soddisfazione che dà grattarsi in una circostanza di prurito, sì, ma dopo che la persona si è grattata il prurito moltiplica per 10 e quindi la sofferenza moltiplica per 100. Allora una volta che si è chiarito che la paura genera la collera, la collera genera l'attacco, gli attacchi, la rabbia, l'aggressività, un parlare aggressivo, una mostra di un grugno, di una faccia feroce, di un atteggiamento di sfida, beffardo, un atteggiamento beffardo, immaginate quanta frustrazione produce e tutta questa frustrazione affonda ancora di più la persona. Può anche accadere che in queste circostanze la persona perda il senno o perda il gusto di vivere perché pensa che ormai sono arrivata alla conclusione che la vita non vale nulla, quindi cosa vivo a fare? Ecco, la pulsione di morte ha già fatto capolino ed è una caratteristica della depressione grave. Volete sapere come si fa per uscirne? bisogna che sfodriate tutto il vostro coraggio, tutta la vostra determinazione.